La Bottega Antica nasce nel 1986 fondata da mia mamma Matilde Conti. Già da quell'anno comincia il percorso di ricerca della pittura italiana dell'Ottocento. La nostra passione per l'Ottocento italiano nasce dal collezionismo di mio padre. La scelta di aprire la Galleria di Milano nel 2010 è stata dettata dal fatto che il grande collezionismo italiano dell'Ottocento e Novecento ha storicamente sede nel capoluogo lombardo. Dopo l'interesse dedicato al futurismo degli albori la Galleria si sta specializzando nel futurismo tra le due guerre e in particolar modo nel movimento dell'aeropittura. Attraverso lo studio e la ricerca bibliografica Bottega Antica passa al vaglio tutte le opere che vengono prese in considerazione. Grazie alla collaborazione con musei, archivi e fondazioni forniamo a tutti i nostri clienti tutta la necessaria documentazione per la vendita e per l'acquisto di opere d'arte. Bottega Antica partecipa regolarmente alle migliori e prestigiose fiere d'arte internazionali come la Biennale di Parigi, Masterpiece of London, la Biennale di Firenze, Tefaf New York e Tefaf Maastricht.